Buongiorno piccolo gatino Lurubianco Buongiorno 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 mio piccolo gatino Lurubianco Lui mi deve raccontare che cosa ha fatto Tutte le notte Ogni mattina Si lo so lo so lo so E la gatta non gioca con te E tutti a noi Lo so lo so lo so lo so Lo so Adesso ci sono io Garuramer Questo piccolo gatino Tutto bianco un po' corangione Guarda quanti peli perdi Guarda quanti peli perdi Ma stricciatolo Ma stricciatolo Lurubianco un po' corangione La gatta Buongiorno gatta Sempre sul suo cuscino lei Ah gatta Buongiorno Mega sbadiglio gatta stiglina Si tu mi devi sempre annusare Sa mai che Si tratti di un impostore Gatto gatta stiglina Gatto gatta stiglina Le coccole mattutine Le coccole mattutine Sul tuo cuscino preferito Gatto gatta stiglina L'ho spazzolata un sacco Ma devo ancora spazzolarla Perché si stanno formando di nuovo Quei nodi antipatici E uno ho dovuto proprio tagliarlo Perché poverina Non riuscivo a A pettinarla Perché le faceva male Gatta stiglina E quando passi c'è la sirena Andiamo a vedere Ah no Prima azioneremo il robot Azioniamo l'aspirapolvere Voilà Come al solito Le mie ciobattine Con un unicorno Vi devo far vedere Quelle che ho preso Comunque mi sono letteralmente Appena svegliata Quindi non so che faccio Perdonatemi Perdonatemi Mi rascondo E andiamo a vedere Che cosa mangiare Per colazione Sinceramente Non ho fame Sinceramente Non ho fame Ma Magari Una pesca Sono le prime pesche Che mangio Quest'anno Sono molto felice Perché quando inizio A mangiare le pesche Vuol dire che inizia A fare caldo Gatto Denver Ma ululi Adesso Stai ululando Da quando in qua Ululi Questa sarà la mia colazione Ragazzi Super super triste Praticamente Se gatto Denver Me lo permette Forse Allora Una pesca Forse diventeranno due Un paio di biscotti Froletti Integrali Questi qua Sono molto buoni Poi Molta acqua Perché ho Tanto Tanto Sette Sempre la mattina E poi Questa Che ovviamente Non c'entra Quella colazione Ma ne prendo Ogni mattina E sono Gli integratori Per capelli E con tutte le vitamine Dove sono Le vitamine C'erano scritte Da qualche parte Ah si B2 B5 B6 B8 C E Insomma Sono Integratori Appunto Per rinforzare I capelli E quindi Li sto provando Da qualche giorno E basta Sostanzialmente Questo è quanto Che tris Che colazione triste Gatto Denver Che continua In perterrito Sì gatto Denver Io lo so Io lo so Sei stato solo Tutta la notte Sto povero Garino Luro bianco Quanti peli Mamma mia Garino 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 Sto andando nel mio studio Adesso A rispondere All'email Mamma mia Che faccia Mi è appena svegliata Eccoci qua Controllare il video Che ho Lasciato in Non in caricamento Ma si stava creando Quando sono andata a dormire Quindi devo vedere Se è pronto Da caricare Così Già lo programmo Per le 17.30 Eccomi Non ero neanche a fuoco E Poi Scatterò Qualche foto Per un brand E dopodiché Sì il video È pronto E poi scatterò Qualche foto Per un brand E poi Ho Non appuntamento Ma insomma Sono E poi appuntamento Da Goran Per fare Sia La solita terapia Dell'ossigena Dell'ossigena Dell'ossigeno Veramente Nicole Buongiorno E E poi per la prima volta Farò Lo smalto semipermanente Vi giuro Cioè Non vedo l'ora Perché sto impazzendo Ultimamente E Lo smalto mi si rovina Ogni giorno Specialmente adesso in estate Sarà disastroso Sì L'ho messo L'altro ieri E comunque Quindi sono molto Molto contenta Di fare finalmente Il semipermanente Di vedere Almeno provo Perché ho sempre avuto paura Non so perché Di fare semipermanente Non so perché Ero Ero sempre stata Molto titubante Riguardo la ricostruzione Che non avrei proprio fatto Però Credo che Il semipermanente Possa essere Una buona Un buon compromesso Per me Comunque Sì se vedete Il crosticino Sul viso Eccetera E il gel Che metto la sera Per i brufoli Quindi questo è quanto Adesso risponderò All'email Perché sono abbastanza Scena Quindi mi secco Anche inquadrarvi Sinceramente In queste condizioni E Risponderò All'email Controllerò Fatture Eccetera E dopo di che Mi Sistemerò In modo da diventare decente Ok Ciao Ok mi sono sistemata Ho fatto la doccia Oggi ho levato Anche i capelli Che Sono secondo me Molto molto più morbidi Ma Ho letto Sulla keratina Che si può fare Una volta al mese E almeno Per il primo periodo La rifarò Quindi tra Cos'è passata una settimana Quella farò Tra tre settimane Qui potete sentire Il gatto Denver Che come al solito Non mi molla Un attimo Ragazzi Questa è la colonna Sonora delle mie giornate A casa Carolever Sei bellissimo Sei una sirena Tu Ni 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 Si Si Sempre protagonista Comunque Tra un po' Dovrebbe tornare Anche Tomasio Adesso farò Un paio di foto Che devo fare E poi Chiamerò Goran E andrò a fare Questo trattamento All'ossigeno E soprattutto Sono curiosa Per il semipermanente Aiuto Voi che fate Il semipermanente Scrivetemi Come vi trovate Che cosa Non so Però contro Scrivetemi tutto Anche se alla fine Questo video Lo vedrete Quando io già Avrò fatto il semipermanente Però vi prego Datemi i consigli Perché per me È la prima volta In assolutissimo Proprio Cioè mai 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 fatto Mai considerato E Sì E dopodiché Oggi giornata Sinceramente Molto poco figa Perché Dall'ultimo video Che avevo fatto Che siamo andati All'evento di oro Tutto molto figo Aperitivi Sushi Eccetera Oggi invece Praticamente Dobbiamo andare Vabbè Tomasio Va a farsi La radiografia Al ginocchio Perché andiamo a vedere Un nuovo medico Che ha richiesto Questa radiografia Quindi oggi Facciamo la radiografia E dopodiché Penso che andremo A fare la spesa Quindi roba Molto Easy E Normalissima Sinceramente Quindi questo E quanto Insomma Sono a fuoco Comunque adesso farò queste foto Dopodiché mi trucco E questo è il programma per oggi Sì Questo è il programma per oggi No vabbè Che rimbambita Mi sono resa conto Che in realtà è lunedì E quindi Corone è chiuso Quindi non potrò andare a fare i capelli oggi E non potrò andare a fare il semi permanente Però Forse è ancora più positiva la cosa Perché così posso aspettare domani E vedere tutti i vostri commenti In cui magari Mi date i vostri pereri Sul semi permanente Mi raccontate Le vostre esperienze E poi Vado a farlo domani Quindi così sarà ancora meglio Perché potrò leggere tutto quanto Prima di andare da lui Ho fatto le foto che dovevo fare Ho risposto tutte le email Ho preparato le fatture Ho fatto tutto E adesso Non mi resta che truccarmi Sono dimenticata La Cioè mi sono portata la videocamera Mi sono dimenticata La La memory card A casa E quindi sto filmando con il mio iphone Non so come sarà la qualità di queste riprese Che fino a quando torniamo a casa Vado con Pum 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 Che si è fatto la barba A me piace tanto Quando hai la barba Ho fatto la barba Ho fatto la barba Ieri sera Sì Sembra sempre un quindicenio Quando si fa la barba Mi pare anche il giorno dopo Sì È bella Stiamo parlando piano Perché stiamo nella sala d'attesa Del studio radiologico Perché Tomar si fa Come vi dicevo prima Adesso La radiografia al ginocchio Che basta Vuoi aggiungere altro A parte che ti stai mangiando Un pacchetto di Forzis Dopo un pranzo Un mega genetico Un pacchettino piccolo Veramente Ma Il pranzo era piccolo No Deve veramente era piccolo E il pranzo pure No Il pranzo era il pranzo Il pranzo era il pranzo Non solo mi ero dimenticata La memory card a casa Ma sono rimasta anche senza batteria Del cellulare Cioè proprio organizzatissima vlogger Io Oh Pupetto Pupetto sta già mettendo via la spesa Abbiamo fatto Un bel po' di spesa Devo dire Siamo andati come al solito Per prendere Tre robe Cioè proprio tre robe Letteralmente E poi alla fine Ci ritroviamo con questo E E la maggior parte Sono schifezze Che non si sa come Finiscono nel carretto Non si sa come Vero? Tipo i panecioc Ma il panecioc Lo hai deciso tu Sì è vero Perché io di solito prendo Perché poi te le mangi pure tutte però È ovvio Ah ecco Poi abbiamo preso Subito appena entrati C'erano le fragole Al supermercato Con Si sono spiaccicate un sacco Però vabbè fa niente Con la panna E quindi io non mangio mai 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 Panna montata Saranno anni Quindi Per la prima volta Dopo un sacco Ci mangeremo le fragole Con la panna montata Gatto Denver Sembra anche molto molto Interessato A tutto ciò Poi ho preso Semplicemente Dei crostini Integrali Da mangiare così Con il salmone Poi ho preso queste Che io amo Lo si lo so Che non fanno bene Però io le amo E i piccoli Wurstel Guarda Si sono tutte Spiacicate Poi ho preso Ah questa Questa è un'altra Di quelle robe Che non si sa Come siano finite Nel Nel carretto Pupetto Questa sarà La tua colazione Credo Sì Non so dove vuoi metterla Io metto tutto fuori E dopo smettiamo Hai visto che le fragole Sono tutte sporche Si macchierà tutto il frigo Non fa niente Altra cosa che non si sa È Le fragole Vedi Altra cosa che non si sa Come sia finita Sono i cuccioloni Cucciolone È finito Non si sa come Pizzetta per me Cos'è sta roba qua Mi ho preso Sì Poi abbiamo preso Gamberetti Gattastellina È venuta anche lei Ad aiutarci Grazie Gattastellina Altra cosa che non si sa Come sia finita Oh ma quanta roba Cascava nel nostro carretto Sono i kraffen All'albicocca Che buoni Poi Kraffen Non so se devono andare in frigo No Non credo Poi Yogurt da bere Alla fragola Poi Queste coppe al cacao Con panna Tutto molto Genuino E sano Io mi sono presa una cosa Che non mangio da secoli E cioè I fruttolo Sì Alzi la mano Chi li mangiava da piccoli E alzi la mano Chi metteva sempre Una roba in plastica Qua io ci mettevo I cucchiaini di plastica E poi li mettevo in frigo E diventano gelati Sono buonissimi I fruttolo Lì Adoro Sì anche tu adoro il fruttolo Poi Allora tutto questo Lo mettere in frigo In frigo Non davi davi per il fruttolo Poi 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 abbiamo preso la pasta Le farfalle Io volevo gnocchetti sardi Ma non li ho trovati Non c'erano Le conchiglie rigate Poi ho preso Una delle mie preferite Sono i bucatini E poi Vabbè Abbiamo preso Su quella mela Per Tomas Biologico Dove essere buono questo E poi Il deodorante Dav Era in offerta Quindi ne abbiamo presi tre Poi 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 Abbiamo preso Ah sì Una salsa di soia Perché me ne danno sempre troppo poca Quando ordino il sushi Poi Oh Anche queste vanno in freezer Anche queste vanno in freezer Le ho prese da fare al forno Però non fritte Quindi senza Senza olio Abbiamo preso Anche Il sugo Alla matriciana Sì lo so che bisognerebbe farlo Però è molto più comodo Così Capiteci Poi Cosa abbiamo preso Latte Sia C'era già la matriciana C'era Eh ma ti ho detto che non ero sicura Ma nel dubbio Due Due deodorante Ah sì Poi ho preso latte per me Quello senza lattosio Perché ho bevuto Cioè So che Mi fa male il latte senza lattosio Cioè mi fa male il latte Con il lattosio E l'altra settimana Mi sono Per due giorni di fila Ho bevuto una tazza di latte Normale E sono stata malissimo Quindi Non devo più assolutamente Bere l'altro Quindi sempre solo zi meal Poi Qui ho preso Oddio Questo ragazzi È la fine del mondo Il chobar crema È la fine del mondo Provate Cioè Non avete idea Cosa Ecco Non avevo dubbi Poi Poi ho preso Il gran cereale Al riso Perché qualcuno Qualcuno Non so chi Secondo voi Mi ha mangiato Il pacco Dell'altra volta E poi E poi Quando io ero a Milano Mi scrivevo i messaggi Mi sto mangiando Il tuo gran cereale Grazie tante Poi Qui abbiamo preso Il salmone Norvegese Poi Gli hamburger Di prosciutto cotto Due confezioni E poi La mozzarella Per Tomas E Sottilette Anche queste Senza lattosio Perché sono terrorizzata Di stare di nuovo male Se mangia Rolo con lattosio E poi Yogurt Zero per cento Quello greco Non c'era Però ho preso questo Secondo me è buono E poi E poi E poi Altro Latte Per Tomas Che lui ne beve più di me E poi abbiamo preso Anche questa Spremuta di arancia rossa Che ha preso Tomas Che secondo me Non sarà proprio il massimo Però vedremo E basta Questo è quanto Mi sa No che cosa c'è ancora Ah il filo interdentale Basta Questo è quanto Sei contento della spesa? Molto Sì? Sì l'unica cosa Dovremmo andare Nelle cofane Dovremmo andare anche In Slovenia Sì perché di solito Le facciamo in Slovenia E lì comprerò Anche Le Le coca-cole zero Ho chiesto a Tomas In che cosa esattamente Mi stava aiutando E tu che cosa hai risposto? Se vuoi mi mangio I krafen Io voglio menzionare Solo questo Voglio menzionare Solo questo Che patato Voloso Sì però comunque I krafen Devo dire C'è questo Grande problema Grande problema Che il nostro krafen Non ha Adesso sono i nostri krafen Quindi lo mangio anche io No? No sono miei No Perché praticamente il mio krafen Non ha il zucchero a velo sopra Mannaggia E quindi? E quindi? Mettiamo la panna E quindi io ho la panna Sì E l'altro krafen è mio? Non manco quello Tutti e due Facciamo così Assergerai Cioè se fa uno schifo Me lo dai uno Vedremo Io nel frattempo Sto facendo i bucatini Per me Che Tomas Alla fine Mangierà gli gnocchi Che sono qua Ho fatto un po' Un disastro Ma perché ho mescolato Ho aggiunto un po' Di salsa di pomodoro Questi sono gli gnocchi Che ci ha dato Che ha fatto in casa Sua nonna Perché ieri siamo stati su A pranzo Slash cena Da sua nonna Che ha fatto un sacco di gnocchi Quindi alla fine Le abbiamo detto Guarda Possiamo portarli un po' A casa Quindi Tomas Voleva mangiarli oggi Però ho aggiunto Un po' di salsa di pomodoro Perché si era un po' asciugato E visto che Vado a metterli Nel forno a microonde È sempre meglio Aggiungere un po' Di sughetto E per me invece Sto facendo i bucatini Che amo Amo i bucatini Non li mangio mai No Alla beata Alla matriciana No No? No Quello mangeremo io e te insieme Domani Ok va bene Io li sto facendo Con il tonno E poi volevo aggiungere Anche Gatto Denver Sempre presente Sempre presente lui Volevo aggiungere Anche le olive verdi Che come sapete Io sono dipendente Dalle olive verdi Specialmente Le sono già in frigo Le ho già finite quelle Ah si? Le ho già finite Inutile che controlli Le ho già finite Oh oh Avevo ragione Oh oh Brutto Ci siamo Cenetta pronta Questi sono i miei bucatini Con tonno ed olive E questi sono gli gnocchi Con goulash E pomodoro Di Tomas In realtà Volevo solo aggiungere Ancora Avevo il prezzemolo Dove Dove il prezzemolo? Qua E qua Aiuto Se non crolla tutto Perché Quando faccio la pasta Il tonno Mi piace Sempre aggiungere Un po' di prezzemolo Voilà Ok Adesso si Che la cenetta è pronta La situazione è questa Io Gatto Denver Appiccicato Si E poi pupetto mio Che sta lontanissimo Da me Ovviamente Prima gatto Denver Dopo sono io E vabbè Non vedi come mi si è appiccicato Sì è vero E tu perché non stai appiccicato a me? Perché c'è questo spazio qua? Perché fai caldo Faccio caldo? Sì no Sempre così Fa troppo caldo Allontanati Fa caldo Che caldana Bisogna andare in Groenlandia Ciao E la situazione è che Tomas non sa Chi è Edward Norton Che sta in questo film che stiamo guardando Ma chi è Edward Norton? Mai visto Mai visto Ok Famoso? Ma che vuoi Mai visto Mai visto Non credo proprio Ti ho detto solo di Charles Weir Che lo conosco bene E basta Scusa Scusa se ti ho disturbato Non mi avvicino Che faccio caldo Non lo so chi è Che questa Non lo so chi è Un'attrice Ha fatto anche The Truman Show C'era ieri per tv C'era ieri in tv lei Solo che Qua sono molto più giovani Volevo solo farvi notare Gatto Denver Io non so dove l'ho trovato Questo gatto Ma cioè Guardate che roba Tu non sei un gatto Gatto Denver Tu sei una specie di bradipo Travestito da gatto Non puoi essere un gatto E' in trans Gatto Denver E' in trans Cioè E' ipnotizzato Mi sono anche tolta il trucco Perché Valentina Mi ha consigliato di toglierlo Appena torno a casa Di non lasciarlo su Troppe ore il trucco In modo da far respirare la pelle Per combattere i vari brufoli E quindi l'ho tolto subito Guardate che roba C'è Guardate che roba Ma dove Dove ti ho trovato io Gatto Denver Sei tutto rimbambito Sei tutto rimbambito Sei tutto tontolone E' in trans Cioè Non reagisce Cazzo Reagisce Coccole al massimo Oddio Sti racchietti Sti racchi Ok ragazzi Ho risposto ad altre email Perché logicamente Me ne continuano ad arrivare Durante tutta la giornata Quindi sono sempre lì Che rispondo alle email Sia dal cellulare Che Che dal computer Anzi Praticamente tutto il giorno Sono lì a rispondere alle email Diciamoci la verità Comunque adesso Ho risposto a tutte le altre email Che mi sono arrivate Durante l'arco della giornata E poi visto che tutti Ne stanno parlando Ovviamente Ho visto qualche altro Spezzettone Del Royal Wedding E mamma mia Mi sono emozionata troppo A parte che lei Mi sta super super simpatica Mi piace tantissimo Secondo me Lei è bellissima E io la conoscevo Dalle prime puntate Di Suits Perché quando era uscito Suits Già nel Cos'era 2014 Ho iniziato a seguirlo Proprio da subito E lei mi è piaciuta Subito Quindi poi Quando ho sentito di Harry E del suo fidanzamento Con questa Meghan Markle Io già sapevo chi fosse Quindi mi sembrava Mi sembra ancora adesso Surreale Il fatto che lei Che era abituata a vederla In questa serie tv Adesso sia Effettivamente La moglie di Harry E viva E viva In Inghilterra Insomma Quindi sì Mi sembra assurdo Ma mi sono emozionata troppo Ho visto Ho visto Le promesse di matrimonio Ho visto quando Hanno pronunciato Il fatidico sì Poi ho guardato tutto Quando sono passati Con la carrozza No bellissimo Mi sono emozionata troppo Mi è venuta voglia Di sposarmi di nuovo Tipo Però no Bellissimo Bellissimo davvero Cioè Non lo so Non sono una che si emoziona Di solito Per queste cose Però non so perché Questo matrimonio Notare che quello di Kate Di William Non mi aveva proprio Interessato Cioè non mi interessava Invece il loro matrimonio Non so perché Mi ha colpito Particolarmente E quindi Mi sono emozionata tantissimo Non ho avuto proprio il tempo Di vedere tutto 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 Però Mi piaceva lei Mi è piaciuto lui Mi sono piaciuti i loro sorrisi I loro sguardi Di complicità Mi è piaciuto tantissimo Il suo abito Insomma Mi è piaciuto proprio Tanto 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 E quindi Mi sono emozionata Però adesso In realtà Devo mettermi al montaggio Di questo video Ma prima Volevo Io so che non devo dare mai peso Agli haters Eccetera Ma lo sapete Sono ormai Su youtube dal 2009 E non ho Non ho mai affrontato Certe cose Ma ultimamente Mi va di farlo Perché Alla fine perché no E Ripetendo sempre Comunque Che io Mi sento la persona Più fortunata Più fortunata Al mondo Perché davvero Il 99% Di voi Che mi seguite Che mi scrivete Mi lasciate messaggi Mi fermate per la strada Mi salutate Ed è una cosa quotidiana Cioè E davvero Mi sento super 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 fortunata E quindi Lo apprezzo tantissimo Dovete saperlo Che Lo apprezzo tanto E E mi sembra Non mi sembra vero Ecco insomma Quindi Per farvi capire Quanto mi sento fortunata Però mi arrivano Ed è praticamente dal 2009 Da quando ho iniziato Diciamo dal 2010 Dai Che mi arriva Sempre lo stesso commento E oggi di nuovo Mi è arrivato O ieri Ho letto Comunque è un commento Davvero molto molto brutto Una cosa tipo Eh Sì le aziende Lavorano con te E ti mandano i prodotti Anche se non hai talento E mentre Così tutte le persone Che hanno talento Non hanno Non hanno avuto successo Su youtube Allora ragazzi E poi Sempre lo stesso commento Mi arriva Tipo Eh Basta aprire un canale youtube E dire due stupidaggini In un video E E tu E qua E quello che guadagni E quello che ti mandano Insomma Sempre lo stesso commento Eccetera E io Una cosa penso No Ma Se è così facile Voglio dire Se è così facile Ma Fatelo tutti C'è nel senso Se Se Queste persone Che mi lasciano Questo genere di messaggio E mi rendo conto Che ovviamente Non sto parlando Di voi Della mia family So che voi Non siete così Non la pensate così Eccetera Però Le persone che mi lasciano Questo genere di messaggio E che mi dicono Ma non è giusto Perché tu Eccetera E youtube E tutto quello che hai E tutto Anche lì Come se Ovviamente Le cose Gli averi Siano la cosa più importante Del mondo Ma comunque Trasciando Questo è un altro discorso Ma Voglio dire No Queste persone Se pensano Che basti Premere rec E parlare Davanti alla videocamera Per mezz'ora E che questo sia Tutto quello Che io faccio Perché allora Non lo fanno anche loro Cioè Se pensate Che sia così facile Perché non lo fate Anche voi Questo non sono mai riuscita a capire No Perché alla fine Per queste persone Fare video su youtube E stare Dieci minuti Quindici minuti Non so Mezz'ora davanti alla videocamera E basta Non si rendono conto Di tutto Il resto Del lavoro che c'è Ma Nonostante per me Sia il lavoro più bello del mondo E non vorrei fare nient'altro Perché è davvero La cosa più bella del mondo Non possiamo lamentarci Chi si lamenta Di essere uno youtuber Secondo me Ovviamente Non sa Cos'è lavorare Duramente E ovviamente Io non posso lamentarmi Il lavoro più bello del mondo Però voglio dire No Se è così facile A questo punto Fatelo anche voi Evidentemente Non è così facile Evidentemente C'è un sacco di gente Che si apre un canale Ma molto molto pochi Riescono poi A farlo diventare un lavoro Evidentemente Non è così facile No Comunque Vabbè Questi sono piccoli sfoghi In realtà So che la mia family Sa bene Che cosa significa So che La mia family Mi capisce molto bene Perché me lo dite Non è che sono io Che dico Ah io so che voi lo sapete No Perché quando mi fermate Per la strada Me lo dite Mi capite perfettamente Cioè io non so come fate Ma o mi leggete nel pensiero Perché io uno Non mi so spiegare tanto bene Secondo me Credo Forse sì Un po' non lo so Forse ormai siete talmente abituati A sentirmi Che tipo Mi capite Anche se Non mi so spiegare tanto bene Probabilmente sì Probabilmente è così Però Però so che Ecco So che mi capite Eccetera Però a volte Quando mi arrivano Questi commenti Sono lì davvero Che Mamma mia Penso cavolo Ma se è così facile Se secondo te Non faccio niente Oppure quelli Che danno per scontato Il fatto che Io ho un sacco di tempo libero Cioè C'è cosa meno vera Io non ho mai tempo libero Ma mi rendo conto Che possa sembrare così Non è un problema Però Mi dà fastidio Quando Le persone vengono Ti giudicano Senza sapere È una cosa Che non ho mai Sopportato Nella mia vita È una cosa Che non riesco A concepire Come la gente Possa Giudicare Senza sapere Cioè E c'è gente Che dà per scontato Che quello che pensa Sia la verità assoluta Io non riesco A capacitarmi Di questa cosa Non ce l'ho mai fatta Non ce la farò mai Forse perché io sono Una con mille dubbi Mille incertezze Mille domande Non do mai niente Per scontato Non lo so Non giudico gli altri Eppure è così È così facile Voglio dire Non lo so Comunque Sì Piccole considerazioni Della sera Io alla fine Quando rimango da sola Qua sul divano E sto per mettermi al lavoro Mi perdo sempre In queste considerazioni Un po' Polemiche Problematiche Ma Sarà che Ho letto Qualche commento Poco fa E poi anche ieri E vi giuro Che ormai Cioè io blocco Perché proprio non ce la faccio Anche perché poi Ho notato negli anni Perché per un lungo periodo Non bloccavo più nessuno Eccetera E poi mi rendevo conto Che queste persone Continuavano A tornare Sui miei video Lasciando Più o meno Sempre gli stessi Messaggi Commenti Sgradevoli E quindi mi chiedo Anche qua Ma se Non ti piacciono I miei video O comunque Le tematiche O comunque Non ti piaccio io Perché non ti sto Simpatica pelle Perché altro non può essere Voglio dire Non conoscendomi Però Voglio dire Ma allora Perché Si vedono Ogni singolo Dei miei video Per anni E anni E continuano A commentarli Tutti Cioè non riesco a capire Comunque no Questo 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 è quanto In realtà Non so come sia uscito Questo video oggi Non so se questo video Sarà decente Io me lo auguro Perché Mi sono dimenticata La videocamera Quando siamo andati Quando Cioè mi sono dimenticata Avevo la videocamera Ma non avevo la memory card Quindi Perché prima Di uscire Abbiamo filmato Un pezzo Di un altro video Che però voi vedrete Tipo tra un mese E poi ho lasciato La memory card In quella videocamera Mannaggia Perché l'altra memory card Che avevo l'ho persa Tipo E E quindi Sì questo qua Dovrei comprare una memory card Dove mi conviene Comprare memory card Voi che sapete tutto Dove mi conviene Comprare una memory card Con tanti 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 giga Tipo il massimo di giga Che c'è possibile Immaginabile Fatemi sapere Se mi conviene online Se mi conviene in qualche negozio O comunque dove O se mi conviene Forse più negli Stati Uniti Visto che presto Credo di dover andare Negli Stati Uniti Quindi fatemi sapere E poi una figata Il video che abbiamo filmato Con Tomash Ma appunto voi saprete Tutto tra Penso circa un mese Perché c'è questo brand Che ti fa scoprire Se ne sta parlando Un sacco in giro Quindi forse magari Già sapete di chi sto parlando C'è questo brand Che ti fa scoprire Praticamente Ti fa fare un test del DNA E ti fa scoprire Le tue origini Da Insomma I tuoi antenati Da dove Da dove venivano E quindi ti fa Ti fa una specie Di albero genealogico E ti dice Proprio sulla mappa Da dove Arrivano I tuoi Da dove Di dove erano I tuoi antenati Sostanzialmente Ed è una cosa Che ho sempre voluto fare Ho sempre voluto Sapere Vedere il mio albero genealogico Sapere Eccetera E so che Della parte Di mio papà Le origini Sono austriache Tedesche Slovene Della parte Di mia mamma Triestine Inglesi E Credo Sì 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 Però questo È tutto quello Che so Non so altro Quindi sono molto Molto curiosa Perché appunto Con questo brand È stata una collaborazione Ma loro mi hanno contattato Ma è una cosa Che Ce li avrei contattati Io Per quanto mi interessava Per farvi capire Perché sono anni Che io prego I miei genitori Che mi facciano Questo albero genealogico Come l'hanno mai fatto Grazie tante E quindi Finalmente Cioè è incredibile Ma la legge Dell'attrazione Proprio tu vuoi una cosa Ti arriva Cioè mi è arrivata Sotto forma di collaborazione Ma E poi gli ho chiesto Se poteva farlo Se poteva fare Lo stesso test Anche Tomas Mi hanno detto di sì Quindi abbiamo filmato Questo video In cui noi Abbiamo fatto Il test del DNA Quindi tipo Con un cotton fioc Gigantesco Te lo passi Nelle Sulla guancia Tipo lo strofili Lo strofili Sulla guancia E poi lo mandi A loro Nel laboratorio E poi ti arrivano Le risposte Quindi circa Però dopo Quattro settimane Da quando ricevono Il I samples Da quando ricevono Le provette Sostanzialmente Quindi sono Estremamente Estremamente curiosa Di sapere Di capire Magari viene fuori Tipo solo Trieste E quindi lì Veramente Cioè che delusione Però no In realtà sono Super 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 curiosa Anche Tomas Super super curioso E oggi abbiamo fatto Questo test Ma devo ancora Spedirlo Quindi Oddio Che figata Quindi vabbè Niente Io adesso mi metterò Davvero al montaggio Ah sapete Che cosa Che cosa mi è successo Poi un'altra cosa Strafiga Io proprio Per farvi capire Quanto sono Cionpa Imbranata Per l'altro giorno Li ho consumati Li ho consumati Un sacco Dovrei buttarli E gli scalini Sono fatti in pietra Quindi anche questi Un po' lisci E io tipo Sono volata Cioè ma mi sono fatta Anche tre Tipo tre gradini Boom 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 Tipo con il sedere Così E alla fine Mi sono fatta Un po' male Qui sulla mano Che non so se si vede Che ho un livido Oppure non so se si vede Perché sono caduta Proprio sulla mano Ma soprattutto Sono caduta Sul piede destro Che mi si è tipo Un po' girato E io quando cado Quando mi succede Qualsiasi cosa Visto che ho Lo sapete Ho le ossa Mi manca la vitamina D E quindi Ho le ossa Più deboli Più deboli Degli altri E quindi ho sempre paura Di essermi Rotta qualcosa E quindi sono rimasta lì Sì E ho detto No Adesso devo andare All'ospedale Sicuramente mi dovranno Ingessare il piede Eccetera Perché in realtà Mi sono già fratturata La caviglia Mi sono storta Il medio piede Cioè io ho veramente Di tutto Ovviamente avendo L'osteoporosi Ti capita di tutto Appena cadi Cioè ti rompi E quindi io Stecca le dita Tutta Fratturata il polso Le costule Veramente Cioè nella mia vita Ormai E quindi E quindi Quando sono così Ho detto No Oddio Adesso devo andare All'ospedale Quindi poi sono rimasta Alla seduta Per terra Che se passava qualcuno Immaginatevi La per terra E poi mi sono detto Ok proviamo Mi sono rialzata E invece per fortuna Non mi sono fatta Granché A parte Vabbè Vi faccio vedere Perché non c'è Sinceramente Niente di Così grave O niente di brutto Però Non so se si riesce A vedere Sì Ho tipo Tutto scorticato Qua Ed ho una specie Di livido Non ben definito E anche il piede È tutto gonfio Ancora Però Ho pezzettini Di pelle Che si stanno Ancora staccando E poi tutto Questo graffio E questo livido Vedete che è gonfio Comunque Per fortuna Non mi fa male Cioè Mi fa un po' male Ma è soltanto Un ematoma Un livido Non sono dovuta Andare in ospedale A farmi ingessare Niente del genere Adesso Mi sto mettendo Ghiaccio Che è qua Ghiaccio Pomata Antinfiammatoria E basta Sostanzialmente Quindi tanto Per farvi capire Che oltre al livido Sul treno Tracchete Che è ancora qua Osceno E poi sono anche caduta Per le scale Quindi benissimo E mia mamma Per darmi Tanto Per incoraggiarmi Mi ha detto Non c'è due Senza tre Io grazie Vabbè Comunque ragazzi Questo è quanto Io veramente Dopo che si fa Una certa ora Io comincio A dare A dare i numeri E faccio questi discorsi No ma sapete Che io voglio aggiornarvi Su tutto Anche se Sono tonta Vi aggiorno su tutto Quindi Niente ragazzi Ragazze Questo è tutto per oggi Mia family Spero vi sia piaciuto Questo video Voi lo vedrete domani Che è martedì Quindi noi ci vediamo Mercoledì domani Con un nuovo video Perché voi siete nel futuro Quindi questo video Lo vedrete martedì Io domani Io domani finalmente Andrò da Goran A fare L'ossigenoterapia E il semi permanente Alle mani Mi raccomando Mi raccomando Datemi consigli Sul semi permanente Scrivetemi Le vostre Esperienze Insomma Scrivetemi davvero Quello che sapete E come vi trovate Se lo fate Eccetera Scrivetemi tutto E spero che Mi aiuterà A non dover perdere Più così tanto tempo Praticamente ogni giorno A ritoccare A rifare lo smalto Perché io Non so come Ma probabilmente Digitando tantissimissimissimo Sulla tastiera del computer E mi rovino lo smalto Molto in fretta Quindi Sono curiosa Niente Lo sapete Non voglio mai abbandonarvi Spero che questi video Vi piacciono Spero che Spero che questo vlog Casereccio Vi sia piaciuto So che vi piacciono I vlog caserecci Anche se io Sono sempre in dubbio Se vi interesserà O no Ma voi mi dite sempre di sì Quindi mi rassicurate Grazie E E domani Probabilmente Anche domani Filmerò un vlog Perché poi domani Ho anche il terzo Lash lift Quindi sono molto molto contenta Anche per questo E vi mando Un bacio grandissimo Gatto d'embre qua Che ha fregato il cuscino Preferito della gatta Ciao gatto d'embre Ciao gatto d'embre Buonanotte Garino d'embre Non ce la fa più È troppo stanco Quindi Un bacio grande Mia femmine Noi ci vediamo domani Ciao Vi voglio bene Ciao Ciao